Negli anni 30 inizia l'attività nello spettacolo come cantante e attore comico, avendo avuto come maestro il famoso Gandusio, sia all'Eyar, che nei teatri di rivista e avanspettacolo, riuscendo ad avere una certa notorietà, debutta anche nel cinema in piccole parti brillanti. Giacomo Gentilomo lo scrittura per il film Eccola Radio, dove i più famosi artisti della radiofonia interpretano scenette e canzoni, che li avevano resi famosi davanti al microfono, permettendo agli spettatori delle sale di poter vedere i propri beniamini. Alla fine degli anni 50 ha una propria compagnia teatrali al teatro alle maschere a Milano e, recita nella compagnia di Lida Ferro al teatro Santerasmo con fra gli altri Lucio Rama, Leo Gavero, Umberto Ceriani, Ruggero De Daninos, Miriam Crotti, successivamente si trasferisce a Varese, diventando una presenza fissa alla radio televisione della Svizzera italiana. Ha presentato il Festival di Sanremo 1956, a metà degli anni 60 si trasferisce a Roma, per svolgere una intensa e apprezzata attività di doppiatore. I primi sintomi della grave malattia che lo porterà alla morte lo colgono a Venezia, sua città natale, durante la ripresa di uno sceneggiato televisivo, sulla scalinata di Palazzo Ducale. Morirà poco dopo all'ospedale di Padova.